sta qua dentro qui adunata qui arrivo un altro il tuo compagno si è meritato a no è qua dove è entrato abbiamo compagnia dentro 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 si sta fuori sta fa il giro è uscito ma va fatelo poi beccato in pieno avete fatto uno si 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 l'ho fatto non ho capito se stavo a sparare a lui o no